Tifosi rossoneri, buon pomeriggio da Sorrento e Fulvio Cascone vi frisce per Sorrento Noto 27esima giornata del campionato di Serie D, Girone I, Tera, Leone, Bostal, Camangu e Lentini l'avviatore romano che è squalificato, poi Pignatta, Pignatta il suo sinistro, la palla sfignorata, un po' a controllare eventuali contropiedi, Cocuzza proprio a saltare poi c'è il pallone davanti l'aria, Maiella il suo sinistro, l'esterno, ecco c'è un fallo divide Pignatta, ora il noto che si propone con Cocuzza, il suo sinistro, la palla, siamo al limite dell'aria, Pignatta per schiavone il taglio, schiavone di testa di fare gli spareggi di decisione, perché, diciamo, c'era francamente, che mi sovente il merito di giocare gli spareggi, e c'è la munizione, non c'è la voglia di, diciamo, prima del campo di passaggio, l'arbitro per fortuna, dove gioca il Tiger, ma naturalmente dobbiamo assolutamente battere il noto, Manciura, Gabbiana, Pignatta, Viscido, il suo desto, barriera nutrita, anche due giocatori del noto, la parabola, la palla, sfiora il palo, qualche istante fa, su una previsione, la Pignatta, il noto non ha mai creato pericoli, ma c'è una doppia munizione numero 4, Viscido e Saluto, Viscido è spulso, perché cosa? Ma Viscido non ha fatto nulla, e saluto, e doveva essere ammonito. C'è andata... Pignatta, sulla sinistra, palla davanti, eeeh, ma cosa fate in aria dormite? Riscaldando, Pignatta per Maiello! Il portiere Ferla, che si è trovato in verità il pallone fra le mani, non sa neanche lui come, e poi c'è questo, il doppio cartellino giallo, vege ancora dei giocatori, negli spogliatori c'è questo tiro rete, ha assegnato il noto con quello, ha giocato l'accordo, dopo qualche gioco, ci mancava, solo lui, è spulso, è spulso, e Ficarotta cerca di superare il noto, che riesce, poi no, si, se ne va sulla sinistra, poi tenta il tiro, poi Elefante viene fermato, il grande fischio, finalmente, il primo di questo, oh proprio! Viscido, ti guarda, finisci...